bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyude e oggi ragazzi amanti di rules of survival oggi voglio darvi grazie anche all'aiuto devo dirlo subito della pagina facebook ufficiale di rules of survival italia andate a vederla delle nuove belle fugose informazioni sull'aggiornamento che arriverà mercoledì 17 gennaio in rules of survival avete già visto ragazzi un paio di miei video dove vi ho accennato sia le notizie ufficiali che gli spoiler che ci sono direttamente arrivati dalla cina passando prima per la thailandia e oggi ragazzi invece ho di nuovo delle fotografie che non mi sarei mai aspettato di vedere prima di andare a vederle assieme per non rovinarvi subito la suspense e avremo anche un piccolo video avremo un piccolo video che non so se se è pronto non è pronto lo andremo in qualche modo a vedere voglio leggervi quello che viene scritto su un articolo thailandese che abbiamo ovviamente tradotto coi nostri scribachini che parla appunto di alcune cose che verranno inserite vi invito comunque ad andare a dare un occhio anche al video precedente dicono i giocatori adesso possono formare squadre sembrerebbe da 5 non da 4 questo già è eccezionale per noi che giochiamo assieme ma la modalità di 5 persone nella squadra avrà un massimo di 80 giocatori quindi non 120 come siamo abituati a vedere nella modalità singola o nella modalità a squadre anche nella modalità duo ce n'è un'altra ma non ve la leggo ve la dico proprio quando vediamo le foto hanno sistemato nuovamente il frame rate ovvero sia per chi gioca da alcuni dispositivi potenti è stato ulteriormente aumentato cosa vuol dire per chi non lo sa che l'immagine è ancora più nitida quindi non si sa se arriverà in hd però immagini di nuovo migliorate hanno ricordato che ci c'è di nuovo la modalità per gli smartphone che non hanno proprio una potenza esagerata dove si potrà comunque giocare senza lag in quanto verrà eliminata l'erba e alcuni effetti grafici che vanno a gravare sul peso del gioco in generale hanno migliorato questo non lo sapevamo nuovamente migliorato il momento in cui ci paracadutiamo dall'aereoplano quindi paracadutismo migliorato sia nel comando del deltaplano che nell'atterraggio non so se voi avete notato come me ma a volte succede che quando atterriamo passano parecchi secondi dove il personaggio rimane fermo ed è molto molto fastidioso soprattutto se giochiamo e se atterriamo in una postazione dove ci sono altri giocatori hanno migliorato e lo avevamo già detto poi andremo a vedere anche le foto il marker dei compagni di squadra quindi adesso è più facile riconoscere sulla mappa i nostri compagni di squadra anche nella parte bassa dove ci sono i nomi e i numeri e hanno ottimizzato speriamo che sia vero dovrebbe essere vero il come si dice la qualità dell'immagine quando andiamo a mirare in lontananza con un 4x con un 8x capita spesso e volentieri che a occhio nudo vediamo delle case diciamo bene prendo l'8x per controllare se dentro c'è qualcuno vigliaca maiala non si riesce a capire perché ci sono quadretti pixelati dovrebbe essere stato sistemato anche questo ma io lo so perché siete qua ma io lo so che le volete vedere le foto ah fermo lì prima di andare a vedere le foto ragazzi mi raccomando perdete due secondi due secondi uno di qua uno di qua mettete un bel like se vi sta piacendo questo video e iscrivetevi al canale anche per giocare assieme a me nelle live pomeridiane a rules of survival eccole qua ragazzi stappatana andiamo a ingrandirla a un pelo che si vede meglio andiamo a ingrandirla a un pelo così ragazzi magari non proprio sopra la mia webiz webiz va bene ascian così chissà e frega qua ragazzi vediamo nella prima foto il marker migliorato sulla testa del nostro compagno di squadra quindi vediamo un bel numerino bocicciotto bello grosso che ci fa capire subito dove sono i nostri compagni credo credo in realtà ragazzi che e poi lo andremo a vedere in un'altra foto c'è una nuova impostazione nel menu setting dove noi possiamo decidere se vedere il nome del nostro compagno di squadra o il numero che in realtà non ce ne frega niente di sapere il numero ma giusto così per sapere proseguiamo ragazzi e vediamo che c'è la nuova area colorata quando non siamo nella safe zone dovrebbe sembrerebbe almeno dalle immagini è evidente è verde forse nella modalità zombie non lo so comunque è verde ah e c'è anche scritto xuder non si sa bene come è possibile che ci sia scritto xuder porca vacca lo sono foto mie oh mio dio oh mio dio vai proseguiamo ragazzi kataya guardala lì ragazzi guardala lì abbiamo le fotografie in anteprima della bomba a gallina ragazzi guarda che grande guarda che grande la bomba a gallina e non solo ragazzi non solo vi farò vedere anche fra poco anche il video in anteprima di come va la bomba a gallina ragazzi che ve lo ricordo si può lanciare esattamente come una granata normale ma può andare più lontano e fa più male quando esplode vabbè ma ragazzi vabbè ma ragazzi ma guardate guardate cosa ci hanno regalato finalmente il passeggero dei veicoli adesso può sparare e mirare finalmente era inutile sembrava che andavamo a fare la gita in campagna in quattro sulla macchina mentre gli altri ci sparano uno evita che ci sparano e gli altri tre sono lì a guardare no adesso quando siamo dei passeggeri possiamo andare a sparare anche noi finalmente ci sta ci sta prot di nuovo un po più in grande ragazzi bomba a gallina la la stiamo vedendo e gallinella montata dietro questo era giusto per farvi vedere ancora il logo della nuova granata ed ecco qua appunto la parte del menu relativa a quello che vi dicevo prima se andiamo a notare sulla parte sinistra la seconda voce dove c'è il numero 820 e i quattro numeri di fianco si è credo che sia la possibilità appunto di decidere se vogliamo vedere il nome del nostro compagno di squadra o il numero del nostro compagno di squadra nella mappa o comunque quando siamo vicini per avere appunto un po più di chiarezza quando possiamo quando per sapere dove sono sto pensando a come ingrandire l'altro video scusate di nuovo ragazzi un'altra immagine eccola qua la solita granata gallina o la gallina bomba non si sa vediamo se c'è qualcos'altro di bello oh mio dio c'è un grande prato verde no ragazzi no guardalo lì dov'è guardalo là mimetizzato tutta mimetica a forma di erba ragazzi oh mio dio non si sa niente di questo è proprio una roba nuovissima ragazzi tutta mimetica a forma di erba come vedete ragazzi siamo praticamente ovviamente invisibili in un prato io credo sia eccessivamente op una cosa del genere però lascio agli sviluppatori il la decisione di come andare a inserirla nel gioco oh my god avanti ancora qua vediamo appunto il marker sopra credo che sia l'immagine che abbiamo visto anche in precedenza direi proprio di sì direi ragazzi che vale la pena fermare un attimo fermare un attimo questo video e andare a prenderci di grande prepotenza il come si dice di andare a prenderci di grande prepotenza il video relativo alla bomba a pollo ragazzi eccolo qua no non è questo che cacchio è è questo guardalo guardalo andiamo a rivederlo con l'audio andiamo a rivederlo con l'audio ragazzi assolutamente senti che effetto che fa senti che roba meraviglioso ragazzi meraviglioso anche e poi qua partono video a caso meraviglioso la granata a pollo ragazzi abbiamo finalmente trovato il video ufficiale beh ragazzi io direi che per oggi per rules of survival è veramente tutto vi ricordo sempre di andare sulla pagina facebook rules of survival ita official per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che uscirà anche con un bel po' di distanza iscrivetevi invece a questo canale youtube e lasciate un bel like al video se ancora non lo avete fatto noi ci vediamo presto ciao 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 ciao